Torniamo da capo, vai. A dare la prima notizia dell'arrivo del Papa in Calabria, sarà il 26 gennaio 1984, l'Arcivescovo di Catanzaro, Monsignor Antonio Cantisani, dopo essere stato ricevuto in San Pietro in un'udienza privata dal Santo Padre. A lui Giovanni Paolo II dice «verrò a trovarvi al più presto» e nove mesi dopo il Papa sbarca in Calabria per un viaggio che durerà tre giorni e che lo vedrà protagonista diretto alla Mezzia Terme, Serra San Bruno, Catanzaro, Cosenza, Corotone e infine Reggio Calabria, un viaggio tra andate e ritorno di 1600 chilometri, percorsi quasi esclusivamente in aereo ed in elicottero. Imponente per quell'occasione fu il servizio d'ordine. Per la storia della Chiesa, Giovanni Paolo II è il quinto Papa ad arrivare in terra Calabria. L'ultima visita, otto secoli prima, era stata quella di Alessandro III, il pontefice che benedì la Lega Lombarda dei Comuni contro Federico Barbarossa nel 1165. Questo è il momento in cui il DC-9 dell'aeronautica militare proveniente dal 31esimo aerostormo di Roma atterra alla Mezzia Terme. Sono le 10 in punto di venerdì 5 ottobre. A ricevere il Santo Padre in aeroporto ci sono il ministro Salverino De Vito in rappresentanza del governo, l'ambasciatore d'Italia presso la Santa Sede Claudio Kelly, il presidente della Giunta regionale Bruno Dominiani e lo stesso presidente del Consiglio regionale, Anton Giulio Galati. Per il Santo Padre è questo il 44esimo viaggio in Italia, il primo interamente dedicato ad una regione. Alle 11.35 il Papa lascia la Mezzia Terme ed in elicottero raggiunge Serra San Bruno. Qui il pontefice incontra i fratti della Certosa e con loro trascorre il tempo necessario per un pranzo frugale. Risotto, pesce in bianco, formaggio prodotto dagli stessi monaci di clausura. E l'incontro forse più solenne, ma anche quello più riservato e meno ripreso dalle telecamere, tra queste mura che testimoniano nove secoli di storia e di vita. Un bagno di folla anche a Paola, dove il pontefice trascorre la sua prima notte calabrese. L'incontro avviene sul lungomare. Qui, a Paola, Giovanni Paolo II pronuncia due discorsi diversi. Affronta nel primo i temi del lavoro, poi, dinanzi al santuario, celebra una solenne omelia e ricorda per la prima volta la denuncia contro la mafia. L'indomani mattina il Papa lascia la città alla volta di Catanzaro. Ad accoglierlo a Catanzaro, uno striscione scritto in lingua ucraina. Noi preghiamo la Madonna per te, si legge. In cattedrale, invece, la cerimonia ufficiale e l'incontro con la città capoluogo di regione. A riceverlo qui il sindaco della città, Marcello Furriolo. Anche qui, per le strade, migliaia e migliaia di fedeli. Un solo slogan, viva il Papa. Nel pomeriggio tappa a Cosenza. Giovanni Paolo II a Cosenza parla della delinquenza organizzata. È una condanna ferma di ogni tipo di violenza. La Chiesa, grida il Papa, non può e non deve tacere. A Cosenza il sindaco, Pino Gentile, gli consegna simbolicamente le chiavi della città Abruzia. L'incontro con migliaia e migliaia di fedeli avviene allo stadio, mai così pieno di gente. E qui Giovanni Paolo II ricorda e prega per i figli di Albania, a cui la terra di Calabria è da sempre visceralmente legata. 25.000-30.000 persone, forse anche di più, lo attendono per ora su questi spalti del tifo. La terza giornata di questo pellegrinaggio inizia a Crotone. È l'incontro del pontefice con la città operaia. Gli operai della Montedison, la visita alla Pertusola. Anche qui almeno 40.000 fedeli su questa spianata dove soffia la tensione del mondo del lavoro. Poi di corsa verso Reggio Calabria. Ma a Reggio Giovanni Paolo II arriva con qualche ora di ritardo. In elicottero trovano bufera in Aspromonte e i piloti sono costretti ad invertire e modificare la rotta. A Reggio a riceverlo trova il ministro Nicola Capria, il sindaco della città Giovanni Palamara. Momenti di grande commozione e di straordinario coinvolgimento popolare, anche qui. Il momento forse più esaltante e più toccante è l'incontro con i giovani. Oltre 10.000 ragazzi sono giunti qui da ogni parte della regione. A loro il Santo Padre affida il suo messaggio finale. Dice «Aiutate questa terra a crescere». Poi, dopo una sosta ed una visita ai detenuti del carcere, il Papa Polacco riparte e lascia la Calabria. Ma ritornerà quattro anni più tardi. È il 13 giugno 1988. Torna a Reggio per concludere i lavori del ventunesimo congresso eucaristico nazionale. Anche qui un bagno di folla. Grazie. 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 Grazie.